Il treno regionale 74-74 di Trenitalia, proveniente da Cassino, è diretto a Avezzano, delle ore 7.55, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 74-84 di Trenitalia, proveniente da Cassino, è diretto a Avezzano, delle ore 15.01, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Balsorano, Roccavivi, San Vincenzo, Valle, Rodeto, Civita, Dantino, Morino, Civitella, Rodeto, Canistro, Capistrello. Il treno regionale 74-89 di Trenitalia, proveniente da Avezzano, è diretto a Cassino, delle ore 19.52, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Isola Liri, Arpino, Santo Padre, Fontana, Liri Inferiore, Arce, Colfelice, Roccasecca. Sora. Stazione di Sora. Attenzione! Treno in arrivo al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla.